Buongiorno, oggi faremo un video per farvi notare le differenze tra un poligel acrygel e un gel ad alta densità perché ultimamente abbiamo visto dei video e delle foto dove spacciano un gel ad alta densità per acrygel o poligel Io avevo provato, come sapete perché ho messo varie foto e video, Glam, Sabellesa, Beauty Space Nail e Morgana 4 acrygel ottimi, certificati, conformi secondo le normative europee e ho preso un clear, un nude, un white e un cover per farvi vedere giusto la differenza sono tutti e 4 ottimi come sapete l'acrygel o poligel viene prelevato con una spatolina e poi posizionato sull'unghia per lavorarlo io l'ho già fatto in precedenza, c'è il white, il nude, il clear e il cover sono tutti e 4 ottimi, come sapete non si muovono e vi dà del tempo di lavorarli con il cleaner tranquillamente a confronto ho preso due gel ad alta densità di Beauty Space Nail, Gelli, un gel monofasico e un cover di Ness We Are come vedete a impatto vi potranno sembrare simili ma non è così perché comunque se osservate attentamente si vede tranquillamente che sono dei gel ad alta densità e non degli acrygel o poligel anche già la colorazione è differente inoltre a differenza dell'acrygel il gel potete provarlo tranquillamente perché si preleva col pennello senza lasciare filamenti cosa che succederebbe invece se voi prelevaste l'acrygel o il poligel col pennello perché lascerebbe dei filamenti sotto di sé e poi naturalmente potete posizionarlo essendo ad alta densità a primo impatto potreste dire che è uguale ma non è così perché innanzitutto sapete che non si lavora con il cleaner e poi si lavora tranquillamente col pennello portandolo dove volete quindi non avrete problemi la stessa cosa vado a prelevare il cover sempre denso che non cade e se io lo vado a posizionare potete rimanere così per tanto tanto tempo e non si muovono e anche qui lo lavorate tranquillamente senza problemi proprio perché sono gel ad alta densità che possono sembrare ad occhio nudo simili se voi aprite un barattolino ma non è così perché se io vado a prendere gli acrygel o poligel stesi precedentemente posizionati scusatemi se io vado a lavorarlo non è la stessa cosa vedete? se io non vado a fare con il cleaner non vado ad aiutarmi col cleaner bagnando le setole rimane tutto appiccicaticcio guardate e lascia dei filamenti cosa che il gel ad alta densità non lo fa quindi se io vado a lavorare guardate con un pennello pulito come lo è normalmente per lavorare un classico gel qui abbiamo dei problemi quindi la differenza è netta quindi ragazze mi raccomando state attenti a distinguerli anche dalle foto perché se avete un occhio critico li riconoscete un altro consiglio c'è un gruppo che ancora molti non conoscono si chiama segnalazione nails è un gruppo utilissimo di tiziana peluso e barbara vocelli sono due ragazze che si fanno veramente in quattro cercando di risolvere capire i problemi lì troverete tutti i feedback positivi e negativi di ogni venditore perché se voi andate su un gruppo di un venditore x non troverete mai un feedback negativo perché vengono cancellati quindi andate a vedere su segnalazioni vedete che cosa dicono di quel venditore e dopo se volete affidarvi o meno nonostante ci siano feedback positivi o negativi saprete comunque quello che succede quindi ragazze vi invito a stare attenti attenti a cosa acquistate dove acquistate sempre guardate le etichette che ci siano se non ci sono etichette il prodotto non può essere venduto quindi fatevi valere ragazze vi do un bacione spero di esservi stata utile e vi auguro una buona giornata baci